Un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti soliti urbani di Colfelice che grazie agli interventi già in corso sarà riconvertito dall'impianto TMB ad innovativa fabbrica delle materie. È quello presentato presso il Palazzo dell'Amministrazione Provinciale dal Presidente della SAF, Lucio Migliorelli. Le novità di questo progetto è che noi abbiamo intenzione di riconvertire completamente l'impianto di Colfelice. presenteremo il progetto di revamping e di riconversione, vogliamo cambiare la struttura portante dell'impianto che garantisce un corretto smaltimento dei rifiuti urbani di tutta la provincia di Frosinone. Siamo partiti già da lunedì con le prime fasi operative dello svuotamento di un bacino e nei prossimi mesi inizierà operativamente la messa in atto del nuovo piano industriale 2018-2022. 13 milioni di euro di investimenti, la metà con finanziamento regionale, l'altra metà con fondi propri di SAF. Quindi non chiederemo finanziamenti e investimenti ai nostri soci, sono fondi propri e contiamo di realizzare tutto l'investimento nell'arco di un anno e mezzo. La conferenza è stata anche l'occasione per illustrare il più articolato e rivoluzionario percorso che condurrà l'impianto di Colfelice a riposizionarsi come elemento di centralità della transizione verso l'economia circolare finalizzata a riqualificare il rifiuto e risorsa. Vogliamo fare la fabbrica delle materie. La fabbrica delle materie significa togliere quanto più possibile dallo smaltimento in discarica, in termo valorizzazione e recuperarlo come materia prima e seconda. La prima questione è quella relativa alla plastica, quindi faremo una selezione attraverso una linea produttiva nuova all'interno dello stabilimento, faremo una selezione di tutte le materie plastiche e film, le recupereremo e le venderemo sul mercato secondario al posto di utilizzarle per il combustibile da rifiuto e quindi la termo valorizzazione. Questo chiaramente avrà un duplice effetto, da un lato la riduzione dei costi da parte di SAF, dall'altro l'aggiunta di ricavi per quanto riguarda la vendita sul mercato, in questo caso della plastica attraverso le filiere di settore. Faremo un parco fotovoltaico all'interno dello stabilimento, sui capannoni dello stabilimento che ci garantirà 2 megawatt di potenza installata e quindi avremo un efficientamento energetico e una riduzione del costo della bolletta energetica, così come andremo a farci all'interno un impianto per il trattamento delle acque di processo e delle acque di prima pioggia che attualmente vengono gestite al di fuori del nostro stabilimento con dei costi che SAF sostiene.